Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicato alla tragedia sfiorata che si è registrata ieri sera a Gela. In pieno centro storico, per cause da accertare, è crollato un balcone di uno stabile. Sono tre le persone ferite, l'episodio si è verificato nei pressi dell'ex ospedale Vecchio. Vediamo. Si è temuto il peggio ieri pomeriggio in pieno centro storico a Gela a causa dell'improvviso crollo di un balcone di un ufficio in via Marotta, angolo via Sanatore da Maggio, nei pressi dell'ex ospedale Vecchio. Tre le donne rimaste ferite, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. I due di loro erano affacciate sul balcone al primo piano, l'altra era giù quando improvvisamente la lastra di marmo ha ceduto. Sono cadute rovinosamente a terra dopo un volo di qualche metro. Alcune lastre hanno colpito la donna che si trovava in strada. Sono state tutte prontamente soccorse e portate in ospedale. Qualche escurrezione, ma tantissimo spavento. Le case vecchie sono, perché la Pangellina era quella che era. Io non pensavo che arriva la Pangellina andando poi ha ceduto. Dicevo, ma si è venuto, ha pezzato sul balcone e ogni tanto ora queste camicia le succedo io. Quindi è successo, anche il signore andando non lo posso. La zona è stata transennata dai vigili urbani e i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza l'immobile. Strutturalmente la base, sia la base di marmo, che è molto pesante, ha uno spessore consistente, sia le lastre che tenevano in verro, che tenevano vetus, quindi col peso delle persone che si sono affacciate. Sono numerosi gli edifici in centro storico che presentano crepe ovunque. Il consiglio dell'ufficiale e dei vigili del fuoco ai residenti. Dovrebbero farlo all'ufficio tecnico, però sappiamo che l'ufficio tecnico è liberato da un carico di lavoro non indifferente. Per il periodo estivo anche noi sappiamo come siamo combinati, però quanto noi possiamo, comunque il primo intervento lo facciamo noi. Poi eventualmente facciamo noi la segnalazione all'ufficio tecnico e al comune per i provvedimenti del caso. Sottoposti a controllo della polizia di Niscemi sono stati trovati in possesso di due coltelli stile pugnale. Protagonisti sono due fratelli rumeni di 30 e 28 anni. Sono stati denunciati alla procura di Gela per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L'episodio si è verificato in via Lombardia a seguito di una segnalazione di lite tra cittadini rumeni. Gli agenti diretti da Andrea Monaco hanno rinvenuto addosso ai due fratelli sotto i pantaloni celati all'interno dei calzini, due coltelli con lama fissa cuminata rispettivamente della lunghezza di 15 e 13 centimetri circa. Cambiamo argomento, parliamo di Tari. Si profila un aumento per la tassa sui rifiuti solidi urbani a Gela. Vediamo. Si profila un aumento di circa il 40% per la Tari. La tassa sui rifiuti solidi urbani a Gela. A giorni l'aggiunta municipale porterà l'argomento in aula consigliare e poi toccherà ai consiglieri valutare l'ipotesi del voto favorevole all'atto. C'è stato modo di confrontarsi più volte sulla questione nel merito e nei costi. Siamo convinti fermamente che il senso di responsabilità maturato dalla consapevolezza che il servizio ereditato non è perfetto e non è adeguatamente coperto, siamo convinti che il loro senso di responsabilità permetterà di adeguare le tariffe per come giusto, rimodulate per i vari settori. Nell'istante in cui noi diciamo con il senso di responsabilità e siamo convinti che altrettanta responsabilità per il Consiglio Comunale di approvare una tariffa e quindi un costo reale, così come già poc'anzi diceva il Vice Sindaco, è chiaro che poi è inevitabile. Il piano economico finanziario per l'anno in corso prevede un costo del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti non inferiore ai 10 milioni di euro. Lo scorso anno l'Aula scelse di non votare l'aumento proposto dalla neo giunta del Sindaco Domenico Messinese. Noi oggi abbiamo un livello di raccolta differenziata di grosso modo intorno al 30-35%. Questo è un livello di differenziata che di fatti non consente di avere quei risparmi necessari per ridurre la tariffa. Dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello del 60 almeno del 75% di raccolta differenziata. Solo in questi termini avremo seriamente una scorta riduzione. Per cui ancora oggi continuo a vedere, a verificare, ma lo riscontriamo tutti, che probabilmente o non sia la necessaria attenzione o non sia neanche la voglia. Io penso che dovremmo tirare fuori in ognuno di noi la voglia e la volontà. E non solo per un fatto di tariffa o di riduzione di quelli che possono essere 40-50 euro l'anno in più o in meno. Ma il tema è che dobbiamo pensare al futuro di questa città e alla pulizia di questa città. La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Abbiamo messo in evidenza che i costi in aggiunta al capitolato sono dei costi che in realtà servono per coprire l'ordinarietà del servizio progettato in maniera non adeguata. E questo deve essere coperto con la tariffa che verrà sicuramente rimodulata. Ma per quale motivo si aumenta? Si aumenta perché i costi del servizio sono alti. Sono alti perché il territorio non sta rispondendo adeguatamente all'aumento della percentuale di differenziata che è un obbligo di legge e che è l'unico modo per attenuare, per ridurre i costi del servizio. Sarà firmata oggi alle 19 nei locali del Club Vela sul lungomare Federico II di Svevia la convenzione al fine di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. È infatti volontà dell'amministrazione comunale assumere e sostenere iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto come atto di grande civiltà in grado di salvare vite umane. Il comune di Gela, abilitato dal centro regionale trapianti, sarà infatti inserito nell'elenco dei comuni virtuosi siciliani e potrà raccogliere i consensi all'atto dell'emissione o del rinnovo della carta d'identità. Interverranno tra gli altri il sindaco Domenico Messinese, Bruna Piazza, coordinatrice centro regionale trapianti e Lucio Antona, direttore sanitario di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP per la donazione ai trapianti. Saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni ADMO, ADAS e ADOCES. È stato ospite dell'ASD Shatsukindo di Gaspare Sirone, il maestro Arjuna Das, che ha tenuto un seminario di yoga e meditazione, il viaggio dell'anima. Lo abbiamo incontrato. Lei è italiano ma vive da moltissimo tempo in India. Che cosa è stato per lei lo yoga? Come si è avvicinato a questa pratica, a questa filosofia di vita? Lo scopo dello yoga, del vero yoga, è riscoprire chi siamo veramente noi, da dove veniamo, dove andremo e che contatti abbiamo con la persona suprema, con Dio. Questo è il vero scopo dello yoga. La cosa molto importante per voi è un'energia che si rinnova e che in realtà vive dentro ognuno di noi. Allora io ho trovato degli yogi malayani nel corso della mia vita in India e diciamo che mi hanno un po' benedetto, ho potenziato su certe cose. Ma in realtà l'energia non è una cosa che si compra al mercato con un seminario. L'energia viene dall'anima, quindi tutti abbiamo l'anima. Bisogna imparare solo il sistema per attivarla. E questa energia, come in una casa, c'è un'energia che può fare calore, freddo, illuminare. Ho fatto una ricerca anche a livello di studio, ho studiato la Bhagavad Gita, che è la Bibbia indiana. Ho frequentato vari ashram, ashram vuol dire posti dove ci sono gente che fa vita spirituale. Ho cominciato con Yari Krishna, poi sono cresciuto, ho trovato yogi e pian piano in accordo il mio karma, perché qua ci parla di karma e di rincarnazione. Sono arrivato a quello che è oggi, che degli yogi mi hanno selezionato, sebbene straniero, a rappresentarli nel mondo. Ho deciso di fare un cammino veramente spirituale e pian piano per karma, per desiderio, ho comprato vari maestri che mi hanno poi portato a insegnare secondo le loro istruzioni. Come si svolge attualmente la sua vita? Intanto io sono sposato da una famiglia, una mia moglie indiana e in India divido il mio tempo tra una missione, dove facciamo progetti umanitari, riconosciuti dal governo, anche l'ambestate italiana e così via. Nel suo tempo sono sempre dietro alla ricerca di imparare cose nuove, quindi divido la mia vita in questo modo qua. Se dovesse fare un paragone tra le abitudini europee e quelle indiane, quali sarebbero le differenze fondamentali? Il senso fondamentale è che l'uomo occidentale si basa sull'estetica, sul corpo, sulla mente. L'indiano si basa sull'anima. E lo yoga che ha trovato lei o è lei che ha trovato lo yoga? Tutti e due. Perché lo yoga non nasce in una vita sola. Lo yoga non si intende dalla ginnastica che certe persone presentano. Lo yoga è medicina, è meditazione, è religiosità, spiritualità, non è. Voi credete nella reincarnazione? Quante volte lei si è reincarnata e in quante vite pensa di aver vissuto? Allora io ne riconosco tre e lo posso dimostrare in molti modi. Nell'accordo ai Veda, ai terzi sacri indiani, ci sono 8 milioni 400 mila tipi di corpi diversi. 400 mila sono umanoidi, nel senso che non è solo qua. Ci sono gli UFO, come le chiamate voi, gli angeli, gli accangeli. Quindi dipende dal percorso dell'anima. Cosa hai in mente? Se tu hai un corpo di donna c'è un motivo dietro a quello. Se hai gli occhi così c'è un motivo. Quindi non si può calcolare veramente quante. Però uno con dei calcoli o con delle meditazioni. Io per esempio posso vedere alcune volte la tua vita precedente. A me quando mi chiedono di che religione sei? Io dico non appartengo a nessuna religione, però rispetto a tutte le religioni autentiche. E allora nella Bhagavad Gita viene spiegato questo sistema qua. Se lei pensa che Dio ama tutti, però insegna in accordo al tempo e al luogo alla circostanza. E Dio dice sempre negli testi sacri indiani, salva d'arma parità, lui dice in Sanche perché sono una lingua antica, no? E dice non è la religione che ti dà la liberazione, è Dio che te lo dà. Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso è il tema di una tavola rotonda che si terrà a Gera nel cortile di Palazzo Pignatelli. Oggi alle 17 in occasione della giornata mondiale del rifugiato all'incontro moderato dalla psicologa Stefania Pagano. Interverranno il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, Massimo Mille Soli dell'associazione My Lawyer, che discuterà sulla convenzione di Ginevra, Giovanni e Anna Loro su quali diritti, quale protezione. Gaetano Bugiada dell'ufficio immigrazione della questura di Caltanissetta, Musa Baie, presidente dell'associazione La Senegalese, e Graziella Manno, tutor dello Sprar, che parlerà intorno al tema, al sistema dell'accoglienza. Adesso occupiamoci dell'incontro avuto dai componenti del comitato Gelensis Populus con il neosindaco di Caltagirone, Gino Ioppo. Lo vediamo. I componenti del comitato Gelensis Populus incontrano il nuovo sindaco del comune di Caltagirone, Gino Ioppo. Quali sono state le motivazioni dell'incontro e che cosa è emerso? Il comitato ha sempre guardato con grande attenzione alle amministrative di Caltagirone, perché non dobbiamo dimenticare che Caltagirone, una comunità che congela Niscemi e Piazza Armerina, si gioca un ruolo fondamentale ed importante nell'ambito della città metropolitana di Catania. Per cui abbiamo ritenuto doveroso incontrare il sindaco di Caltagirone, proprio per capire i suoi intendimenti in ordine al futuro prossimo. Bisogna dire che Ioppo non nasconde la propria intenzione e quella della città di staccarsi dalla città metropolitana di Catania, ma se Gela invece ha intenzione di entrare all'interno dell'area metropolitana di Catania e incontrare un sindaco che vuole invece andare via, per quale motivo? Noi abbiamo tenuto a precisare che era necessario e fondamentale che il progetto della migrazione alla città metropolitana di Catania comunque si completasse. Per cui l'incontro con il sindaco di Caltagirone è stato l'incontro, oltre che con il sindaco di Caltagirone, anche con l'onorevole Ioppolo, a cui abbiamo chiesto di attivarsi presso l'assemblea regionale, a che l'iter comunque trovasse un suo completamento. Quello che è dal completamento dell'iter in poi si svilupperà è un ragionamento da lì a seguire. Quindi se non dovesse andare a buon fine il percorso che conduce Gela all'interno dell'area metropolitana di Catania potrebbe esserci un piano B con un abbinamento Gela-Caltagirone per un libero consorzio. Allora sì, ci sarebbero i numeri? Ci sarebbero i numeri laddove, in rispetto a quello che stabilisce l'articolo 45 della legge 15 del 2015, nel frattempo si lavori a che le comunità del circondario siano mosse dal medesimo intendimento. Un uomo, un prete, una città, 50 anni di ministero sacerdotale a Gela di Monsignor Grazia Labiso. Si tratta del volume scritto da Gabriella Portalone che sarà presentato oggi alle 17.30 nella Chiesa del Rosario. Un omaggio della parrocchia Maria Santissima assunta in cielo a Monsignor Labiso in merito al cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale. Saranno presenti tra gli altri Stefano San Martino, segretario del Consiglio pastorale parrocchiale, Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana, Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazzara del Vallo, Eugenio Guccione dell'Università degli Studi di Palermo modererà gli interventi, Monsignor Rino Ladelfa. Dalla Camera dei Deputati un omaggio alla musica, alla grande tradizione musicale italiana, e agli studenti, giovani talenti vincitori dei principali premi internazionali. E naturalmente tra questi giovani non poteva mancare il gelese Alberto Ferro, reduce dal successo al Queen Elizabeth International Piano Competition. Ferro è tra i 20 musicisti talentuosi che verranno premiati domani dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini. Alberto non soltanto sarà presente e premiato, ma sarà tra i tre giovani che suoneranno durante la cerimonia. All'evento che sarà trasmesso in diretta a Web TV interverranno assieme alla Presidente Boldrini, il Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori Italiani, Paolo Troncon e Raffaello Vignali, Segretario di Presidenza della Camera. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, la linea va alla regia, torniamo tra poco, restate con noi. Ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Anche al Comune di Gele è possibile presentare la domanda per l'erogazione del bonus per la nascita di un figlio. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. Il contributo ammonta a 1000 euro e potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. I modelli dell'istanza sono disponibili negli uffici del Segretariato Sociale in Viale Mediterraneo o possono essere scaricati dal sito internet del Comune. Le richieste corredate da alcuni documenti vanno presentate al protocollo generale dell'ente entro il prossimo 15 settembre per i nati nel primo semestre dell'anno, entro il prossimo 15 ottobre per i nati dal 1 luglio al 30 settembre 2016 e dentro il 15 gennaio 2017 per chi nascerà nel corso dell'ultimo trimestre del 2016. L'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 3.000 euro. I bambini, la giurisdizione e il territorio. Una tutela spesso poco garantita, soprattutto se sono i tribunali per i minorenni a rischiare di chiudere i battenti. Si è parlato di questo nell'aula magna intitolata ai giudici 7 Livatino del Palazzo di Giustizia durante un incontro organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura che ha visto la partecipazione di esperti non solo locali ma provenienti da tutta Italia insieme per affrontare quello che si appresta a diventare un vero e proprio problema nazionale e che riguarda più in particolare l'approvazione in Commissione Giustizia alla Camera di un emendamento firmato dalla Presidente Donatella Fernanti del PD e inserito nell'ambito della delega al Governo per la riforma del processo civile. L'emendamento è stato riformulato e prevede un solo, lungo e dettagliato articolo che sopprime il Tribunale per i minorenni e lo accorpa come sezione specializzata ai tribunali ordinari, sia distrettuali che circondariali. Il disegno di legge che è attualmente all'attenzione del Senato prevede una radicale trasformazione del sistema della tutela giurisdizionale dei minori prevedendo appunto la soppressione effettiva dei tribunali per i minorenni e delle procure minorili e la trasformazione dei tribunali in delle sezioni, sia pure specializzate, dei tribunali ordinari. Si tratta di una proposta che vuole cambiare, snaturare radicalmente quello che è stato negli ultimi 80 anni il percorso della giurisdizione minorile centrata proprio sulla persona del minore. Sicuramente è importante che nel nostro panorama giudiziario ci sia una convergenza degli interventi a tutela della famiglia, a tutela dei minori e quindi è giusto che i medesimi giudici debbano occuparsi del minore in quanto soggetto in abbandono, del minore in quanto figlio di genitori separati e quant'altro può riguardare appunto la tutela del bambino. Però è anche vero che il nostro paese ha una tradizione di giurisdizione minorile di altissimo livello e sicuramente dobbiamo auspicare delle riforme che siano migliorative piuttosto che riforme che in qualche modo vadano a restringere, ridimensionare degli spazi di tutela. All'insegna dello slogan anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela, coordinata da Orazio Coccomini per sabato 25 giugno prossimo, propone con il supporto del CESVOP una giornata di sensibilizzazione per informare e formare i cittadini sui metodi di primo soccorso e BLS. Si tratta di un'iniziativa molto importante anche in considerazione dell'imminente stagione estiva in cui i bambini e gli anziani, assieme a chi lavora sotto il sole, possono essere vittima di un colpo di calore che in certi casi può avere conseguenze serie. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, si svolgono nell'aula formazione della sede operativa di via Falcone, incontra da Brucazzi a Gela dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A conclusione della giornata ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici allo 0933 91 44 19 oppure per posta elettronica Giubbe d'Italia Gela, chiocciola hotmail.com, pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela oppure ci si potrà presentare direttamente sabato 25 giugno alle 8 e 30 presso la sede operativa. Ennesimo successo conseguito dall'Orizzonte Gela, sentiamo. 15 medaglie d'oro, 9 d'argento e 5 di bronzo ancora successi per l'associazione Orizzonte Gela. La delegazione locale, capitanata da Natale Salucci, ha fatto l'on-plane alla manifestazione Play the Games di nuoto, bocce e attratica leggera che si è svolta a Pisticci a Metaponto in Basilicata. L'aspetto importante è la conquista dei sogni che i ragazzi fanno durante gli allenamenti e che altrimenti non gli è vietato sognare, come per esempio Jennifer che da tanti anni segnava di nuotare a stile libero e che finalmente adesso ha coronato il suo sogno. Come anche due ragazze, Federica e Rita, che camminavano con la mano accompagnata e adesso hanno fatto i 50 metri, hanno corso da sole e quindi la felicità, la gioia, la conquista di uno spazio, di un tempo, la conquista di un'autonomia. E questo è l'aspetto importante di Special Olympics e del nostro compito. Ancora una volta l'Orizzonte Gela continua a mettere successi ovunque. Esportiamo un progetto che è Special Olympics. È ovvio che noi applichiamo la lettera anche perché essendo responsabile regionale di Special Olympics forse il mio compito è proprio quello di far rispettare quelli che sono i programmi di Special Olympics. E quindi è il programma che funziona. Noi l'abbiamo applicato e quindi ci riconoscono anche fuori questa nostra capacità. E ora vacanze per tutti? No, ancora abbiamo un paio di impegni. Abbiamo un incontro con i ragazzi di Termini Merese, un'associazione che si stanno avvicinando proprio al nostro mondo di Special Olympics e verranno qui ospiti da noi. Faremo una partita di esibizione di basket e faremo un esperro un po' quelle che sono le linee guide di Special Olympics e poi fino a luglio abbiamo un torneo di tennis tavolo a Belluno. E quindi dopo meritate vacanze. Incomprensibile Sicilia si tratta del libro di Enzo Russo che sarà presentato venerdì 24 giugno prossimo alle 19.30 all'Eschilo Lab in Piazza Salandra. Converserà con l'autore e l'avvocato Franco Gallo. L'iniziativa porta la firma della libreria Mondadori Gela, Comune e Teatro Eschilo. Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela. Tutti gli spettacoli si terranno all'aperto. Si comincerà venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia. Prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.